adesso dovrebbe attaccare un po di più fighe lontano dalla porta che cazzo aspetta ma non lo può rubare la palla scusa ma non ho capito sta capendo ma vedi che quello lì la ruba adesso adesso deve essere un po più sul coperturo devi stare attento sono quattro rettangoli invertiti quattro uno contro uno molto bene molto bene quindi prima lasciava un po questo un po l'esercizio con la zona per il basket bellissimo bellissimo e il discorso era della copertura certo e poi chiaramente tu quando fai la copertura non puoi dimenticare dell'uno controllo deve essere uno controllo con la copertura poi c'è lui ha fatto prima la copertura poi adesso ci mette uno controllo e copertura così tu vedi che se sbagli l'uno controllo sei fottuto